Verissimo torna in onda oggi pomeriggio con un ospite illustre che sicuramente saprà catalizzare l'attenzione di tutti ovvero Albano Dopo il successo del suo spettacolo su Canale 5, 55 passi nel sole, il leone di Cellino San Marco oggi sarà in studio per commentare la nascita del programma e, speriamo, per dire qualcosa sulle polemiche che sono seguite Sui social in molti si sono lamentati del fatto che l'Alecciso e i suoi figli fossero assenti a questa grande rimpatriata ma mentre lui ha subito scaricato la colpa su Loredana, rea di aver scelto di non esserci, non si capisce bene perché i suoi due figli più piccoli siano stati lasciati fuori Una scelta voluta? Un modo per tenerli lontano dal mondo dello spettacolo o qualcosa di più? I fan sperano che oggi arrivi la risposta alle polemiche della famiglia Carrisi a metà e che si scopra qualcosa in più su questo intricato triangolo amoroso Ottimi ascolti in questa edizione.Appuntamento imperdibile quello di Verissimo di oggi, sabato 26 gennaio, in onda alle 16 su Canale 5 Dopo la consueta puntata settimanale con la Scuola di Amici di Maria De Filippi, Silvia Toffanin darà il via ad una nuova puntata del programma del sabato pomeriggio più amato dagli italiani Settimana dopo settimana, Verissimo si conferma leader della sua fascia. Lo scorso appuntamento, infatti, è stato seguito da due 685.000 spettatori con il 19,55% mentre Verissimo, Giri di Valzer ha raccolto 2733 633.000 spettatori per ieri Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.